Ciao, sono Daniele Piani e oggi voglio introdurre il MaxiToppi Special Crab Dual Press. Il Dual Press è una macchina che funziona come MaxiToppi, significa che è un invertito paletto di paletto che cambia la paletto per la rotazione. Con l'applicazione delle tre paure di forze, la macchina può prendere e pressare sull'interno le boxe in modo da cambiare in modo facilemente la paletto. Prendere sull'interno. Come potete vedere abbiamo due forze standard del MaxiToppi, poi abbiamo montato l'interno grido con la rotazione sull'interno e abbiamo in basso il terzo forze che utilizziamo per aumentare la macchina sull'interno e in posizione in giro per cliccare sull'interno e per cambiare la paletto. Il MaxiToppi Special Crab Dual Press è una macchina basata sul corpo del Special Crab Toppi. Significa che la macchina ha la stessa funzione del MaxiToppi standard che può cambiare la paletto per la rotazione, che è ideale per la paletto, per esempio per le macchina, le trame, le boxe o le macchina. Ma quando hai, per esempio, una paletta molto alta di macchina, è possibile utilizzare il Dual Press. Il Dual Press è un sistema che pressa sull'interno le boxe per lasciare la paletta e cambiare in modo molto veloce. che significa che devi ascoltare dal basso, ascoltare. Quando arrivi in questa posizione, ascoltare. Abbiamo un sistema per aggiungere la pressione. ora la paletta, la paletta bianca, è libera. Puoi rinforzare con mano o puoi rinforzare su un'altra paletta. In questa posizione, l'operatore rinforza la paletta, è molto facile. la paletta bianca, e presenta l'alluminio o la paletta plastica, in un modo molto veloce. In questa posizione, l'operatore rinforza la paletta bianca, rinforza la paletta bianca, rinforza la paletta bianca, e poi rinforza l'alluminio o la paletta bianca. Quando arrivi in questa posizione, l'operatore rinforza con l'alluminio o la paletta bianca, parla, rinforza, rinforza la paletta d'alto, rinforza, e lasciando su al microfono i paletti di paletta bianca nella paletta bianca.